Sicuramente sarà difficile visto che siamo tutte squadre qui, non ci conosciamo, tutte squadre che sicuramente saranno al top del campionato italiano, per noi è il primo puntamento importante, quindi penso che dobbiamo dare il meglio dal primo minuto approcciando la partita nel modo giusto, pensando di fare la nostra gara e trattando di imporre il nostro ritmo partita. Minuto dopo minuto proveremo a dare il massimo per portare la prima vittoria a casa e riuscire a giocare almeno la domenica alla finale per la Coppa.